bella ragazzi io sono canos e oggi vi porto un live su corsa operazione prigione come difensori spero vi piaccia se volete altri live lasciate un mi piace e un commento bella m249 silenziati secondo me è essenziale essere silenziati in operazione prigione perché non apparire sulla minimappa è un gran vantaggio c'è già gente lì prima kill facile c'è merda merda mi hanno visto mi hanno visto dove è la situanza state fermi un attimo così 10% non va bene timidi medico vi prego perché chiusa i i dio granata stanno pushando un po' troppo l'obiettivo armato obiettivo armato lol non volevo suicidarmi cazzo vai disarma 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 facile ma una squadra no niente non morire ok mi sa che questa base è persa dove sono dietro di noi ma che cazzo cazzo ok sono lì tutti ma no non ci credo dietro l'angolo sto mastardo ok il problema è il piano di sopra che è lì sono tutti lì ok proviamo a salire 2 2 cazzo 19 16 per cento obiettivo armato obiettivo armato perché siamo rimasti in due in squadra non sa che la base è persa dove cazzo è muori incendiarie del cazzo non cazzo 5 per cento niente base è persa ripiegare 15 per cento ricarichiamoci si dovrebbero arrivare da qui ripiegare ripiegare voglio chiudere la porta oh ma dove cazzo è ma vaffanculo ma vaffanculo eh vabbè vai 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 1 per cento ci siamo uccisi a vicenda e l'encom esplosa niente potenziamento sul campo perso tutti morti anche l'altra base di dio l'hanno armata il mio soldato non salta è handicappato non sto capendo un emerito cazzo il mio soldato il mio soldato il mio soldato l'ho l'ho gli aggrisso ok che arrivano 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 Cazzo dall'altra parte Ok Dov'è? Oh merda Troppa gente Vai 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 Vaffanculo Perché cazzo si era girato quello? Eh va bene 4 neuccisi va bene va bene Il vantaggio del silenziatore Puoi flencare E non se ne accorgono Questo? Buonissimo Questo È al loro spawn Lo svantaggio del silenziatore La perdi di precisione Cazzo dietro Ok Sono sotto Sotto di noi Ma non volevo Succidarmi Vabbè Va bene Ragazzi Sono lì Uccideteli Non è difficile Perché? No 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 Non va bene Dove cazzo Da lì Dovrebbero arrivare da qui Infatti Obiettivo armato La B Dov'è la B È sotto Ma dov'è? Ma vaffanculo Niente La B È persa Sicuro Sponiamo qui Cerchiamo di Tenerci là Dai cazzo Merda Quanta cazzo Cazzo di gente Quanti ne ho uccisi Con la granata Ma vaffanculo Lui Sempre qui Bravo Gente dietro No Saranno lì Sì Hitmark Dietro di noi La minimappa Mi dice Dietro di noi Tripla La dico Ma Infatti Qua No Stanno avanzando Da lì Non benissimo Non benissimo Eh uno è arrivato Uno è lì L'hanno ucciso Dietro ancora Ma Ah dal passaggio esterno Dai vieni Vieni Cazzo Oh merda Sono Già troppo vicini Alla carica Per i miei gusti Continua a dirmi qua E vincono Sembravano gli sfavoriti All'inizio Ma in realtà 2011 2011 Sì 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 Grazie per la visione!